buongiorno benvenuti a questa video analisi del 18 maggio 2016 video analisi che potete ricevere gratis via email o anche sul canale pubblico telegram che un'applicazione molto simile a whatsapp come fare molto semplice dovete cliccare sulla scritta che vedete sopra la mia testa ricevi gratis la video analisi vi riporta il mio sito che vi spiega tutto per bene come fare sul mio sito trovate anche le informazioni sul corso di gruppo si comincia lunedì siete tantissimi vi ringrazio per la risposta che avete dato insomma questo corso di gruppo online che parte appunto lunedì 23 due sessioni 23 e poi il 30 saranno poi inviate le regi video registrazioni quindi vi resta un video corso e siamo oramai vicinissimi domani comincia ma io sarò a rimini it forum 2016 venerdì 20 maggio quindi non domani comincia domani ma io sarò presente venerdì 20 maggio con tre interventi sul mio sito trovate anche l'orario e lo stand dove sarò comunque sarò lì in giro per la fiera e vi invito se mi vedete e mi riconoscete perché io non non vi vedo non conosco i vostri volti se mi vedete avvicinatevi pure mi fa piacere ci presentiamo fisicamente ci conosciamo e magari prendiamo anche un caffè quindi venerdì 20 mezza giornata non sarò nel pomeriggio quindi tutto concentrato nella prima parte della sessione di venerdì it forum rimini quindi è qua la situazione sui mercati alla mia destra vedete già il grafico dell'euro dollaro che prosegue oggi ha toccato guardate lì la punta un nuovo minimo di periodo da quando è partita l'impostazione era già al ribasso con questa eccola qua la freccettina rossa con la candela rossa del 13 marzo precedente ai meeting gli ultimi due meeting bce e federal reserve e qui guardate è fantastico questa questa fotografia che adesso abbiamo della situazione grafica del cambio euro dollaro il più scambiato nel mondo del forex dove magari con questa candela rossa non si entrava subito al ribasso quindi perché c'erano due eventi vedete io dico sempre non affrettate e lo dirò anche nel durante la sessione corso di gruppo di lunedì prossimo non affrettate non abbiate fretta di entrare sul mercato aspettate magari questa volta il mercato invece di salire così e poi ritornare giù andava tutto giù peccato meglio un'occasione persa di guadagno teorica piuttosto che dei soldi reali quindi pazienza bisogna avere tanta pazienza quando si fa trading quindi non si entrava subito prima degli eventi bce e federal reserve che potevano tranquillamente sconvolgere questo grafico effettivamente qualcosa è arrivato con un massimo toccato poi il 3 maggio una volta evaporato tutto l'effetto di questi due meeting si aspettava una candela rossa questa qui il 5 maggio si entrava in una condizione diversa 6 maggio 1 e 14 il giorno dopo la candela rossa 14 aprile 1 12 78 si entrava oltre 100 pips meglio pure vedete mai avere fretta lasciar sfogare il mercato lasciar sfogare questi eventi che possono tranquillamente ribaltare la situazione segnali c'era ma se vi è un elemento nuovo un dato nuovo una parola nuova non detta detta non detta dalla jelen da draghi mercato può prendere delle direzioni diverse imprevedibili quindi cerchiamo di uscire essere fuori da questi contesti altamente incerti e fare solo le cose le situazioni più chiare insomma quindi questo è l'euro dollaro ho toccato un nuovo minimo siamo sotto 1 e 13 toccato 1 12 e 56 anche perché e vi avevo detto bisogna sempre leggere a 360 gradi tutto quello che succede sui mercati guardate qui il dollaro franco svizzero questa candela rossa sebbene fosse su una resistenza h2a come oramai ho battezzato recentemente questa strategia ovvero candela rossa su resistenza resistenza h2a ho supporto con candela verde chi nasce diventa supporto h2a sebbene ci fosse stata il 12 maggio quella candela rossa su una resistenza h2a non è detto che sia effettivamente il mercato poi da lì poteva venire giù anche perché mancava la conferma ed ecco qui il discorso chiamiamolo gioco delle correlazioni euro dollaro era ribasso dollaro yen al rialzo quindi questa candela rossa scusate interno e puzzava insomma non era proprio perfetta e quindi si poteva tranquillamente evitare non entrare e adesso magari entrare adesso rialzo con la rottura di questo livello 0 97 90 quindi ora dollaro franco svizzero riprende la strada rialzo che era cominciata qui con questa candela verde dello scorso 5 maggio e ora come ora guarda alla parità tra dollaro e franco svizzero sono tornati ad essere allineati quindi correlazione inversa sempre in maniera negativa se sale uno scende l'altro l'euro dollaro a ribasso dollaro franco svizzero al rialzo da oggi torna a puntare a nord del grafico usd chf vediamo anche il dollaro yen che per il momento si è creato una sorta come lo chiamo io di tappo qui intorno in area 109 50 resistenza di brevissimo dollaro yen che comunque resta alto nonostante il dato pil di questa notte durante la sessione asiatica è stato rilasciato il pil giapponese superiore alle aspettative e questo un po ha fatto barcollare gli operatori perché un dato positivo potrebbe portare la banca centrale giappone a rinviare ad una cambiamento una politica più espansiva di quella che già sta portando avanti e già qui lo vedete il grafico siano create aspettative di una possibile modifica deluse e poi tutto giù come potete vedere si sta rialzando adesso si sta risollevando anche perché ci sono state le classiche dichiarazioni del ministro delle finanze questa volta giapponese che ha detto non vogliamo intervenire sul mercato ma se vediamo che il mercato prende solo una sola direzione e in questo caso era al ribasso dove la moneta giapponese si stava apprezzando allora sì che eventualmente intervenremo questa dichiarazione ha portato ad una nuova risollevare questo cross dollaro yen però attenzione che il dato di oggi potrebbe influire negativamente ma non è solo politica monetaria giapponese qui c'è il dollaro e ieri due esponenti della fedeli serrano dato delle dichiarazioni pesanti proprio alla vigilia questa sera ci saranno i verbali saranno pubblicati i verbali dell'ultimo meeting della fedeli serrano ci fu nulla di fatto fu tolto la frase che tensioni internazionali e alla fine verbali diranno quello che già sappiamo c'è una spaccatura all'interno del board della fedeli serrano ieri williams ha detto giugno il mercato sta sta oramai da per scontato che non ci sarà un rialzo ma giugno potrebbe essere un live meeting ovvero potrebbe accadere qualcosa le stesse parole frasi usate dalla jelen qualche mese fa è detto non è tutto sommato potrebbero anche esserci due tre rialzi dei tassi interessi usa nel 2016 insomma dichiarazioni pesanti quindi oggi probabilmente emergeranno fuori quelle che la spaccatura di divisione all'interno del board della federal reserve ricordatevi se si alzano i tassi la correlazione che si apprezza la moneta di riferimento tassi usa su dollaro su inoltre c'è si va proprio ad incastrare a distanza di una settimana e purtroppo dipende dai punti di vista quello meeting della fedeli serrano verrà in programma prima del brexit il referendum su brexit 15 giugno fedeli serrano 23 giugno brexit quindi potrebbe anche essere che la fedeli serr decide di rimanere ferma in attesa di avere di sapere quello che sarà l'esito del referendum in inghilterra e quindi non prendere posizioni prima perché comunque hanno detto che terranno conto dell'esito del referendum del brexit quindi potrebbe essere una fedeli serrano in stand by per il 15 giugno vedere che succede il 23 con il brexit poi di conseguenza andare a decidere cosa fare dopo a proposito di brexit c'è la sterlina eccola qua che ieri ha disegnato una candela verde ai chi nasce ma siamo fin troppo vicini a supporto come era successo anche un'altra volta sulle candele verdi sul grafico euro dollaro non mi va di parlare di possibile inversione rialzo piuttosto aspetto la violazione della resistenza 1 46 e 62 con sterlina che comunque sta tenendo nonostante le paure di una vittoria del sì del brexit nonostante i dati macro negativi c'è una sterlina che tiene e bisogna tenere conto di questo quindi una sterlina che tiene anche a dispetto del dollaro che si sta un po rafforzando in giro per il mondo quindi attenzione a questo segnale che ci sta dando il mercato con la sterlina che ancora non è crollata mantiene posizione ha trovato un supporto questo qui 1 44 un supporto di brevissimo aspettiamo la violazione di tale livello ma è sulle commodity currency anche c'è stanno succedendo delle cose molto molto interessanti c'è il petrolio che oramai si avvia a toccare i 50 dollari per vari motivi perché l'offerta in questo momento è carente rispetto alla domanda per vari motivi l'incendio in canada che è tornato a essere molto a portare uno stato di allerta lì nella zona e gli impianti sono a rischio impianti produzione così come sono a rischio anche quelli presenti in africa soprattutto in nigeria e la situazione poi del venezuela a livello economico sociale molto molto delicata questo sta portando quindi a un calo della produzione di petrolio e oggi ci sono le scorte tra le tre cose alle 16 e 30 e in questo momento le quotazioni stanno salendo e le commodity currency le commodity appunto che currency le valute che seguono l'andamento delle materie prime perché nella loro e all'interno dell'economia sono molto risentono molto di quello che l'andamento dell'economia si basa molto sulla produzione o esportazione importazione di materie prime c'è audi usd dove ieri si è formata la candela verde ai kinashi eccola qui quindi siamo anche su un livello di supporto 0 72 e 71 quindi livello direi h2a vedete andando indietro nel tempo come infatti questo di questo parlerò soprattutto riguardo le strategie multi day come disegnare le supporti resistenze come andarla individuare e vedete da questa ultima candela verde che c'è stata io poi si va a tracciare sulla chiusura più bassa candele giapponese adesso non sto a spiegare tutto perché non abbiamo il tempo e poi andando a fare un viaggio indietro proprio nel tempo per vedere se vicino in a 0 72 71 succedono delle cose interessanti e già vedete qui che fantastica resistenza questo era supporto un'altra violata supporto violato diventa resistenza e adesso è stata violata come si ristenza e si ripresenta nelle vesti di supporto ma poi vogliamo avere ancora più conferme storicamente parlando e vediamo che 0 72 71 ancora una volta guardate qui che fantastica resistenza la bontà anche di una resistenza si vede nel momento in cui è violata se c'è un'accelerazione così come è avvenuta qui guardate una volta che è stato bucato guarda strappo al rialzo vuol dire che 0 72 70 area 0 72 70 è un livello decisamente interessante poi vedete insomma si può si può pensare e qui a favore di questa di questo supporto h2a gioca anche il fatto di verbali dell'ultimo meeting dove c'è stato a sorpresa il taglio dei tassi di interesse all'1 75 dallo 0 dal 2 per cento e questo ha portato alla discesa che vedete sul grafico dell'australiano contro dollaro però c'è stata una spaccatura in tre erano contrari quindi questo fa capire che non è proprio un board la banca centrale australiana non sono tutti unanimi il consenso non è unanime per continuare questa politica espansiva quindi effettivamente anche dalla banca centrale australiana potrebbe arrivare un segnale al rialzo e questa candela verde non è l'unica che riguarda l'australiano anche nei confronti del vicino di casa neozelandese dove si è formata la candela verde su un supporto 1073 però attenzione valutate sempre bene se entrate per esempio al rialzo su australiano contro dollaro questa potrebbe essere pericolosa anche perché se avete fatto l'operazione seta rialzo per esempio sul neozelandese proprio contro dollaro il kiwi già è più che sufficiente insomma è inutile entrare anche qui perché comunque entrambe le banche centrali vogliono tagliare tassi e portare avanti delle politiche espansive che dovrebbero portare quindi a un calo ad un depreciamento delle rispettive monete qui però da un punto di vista macro i dati macroeconomici neozelandese ultimamente quelli più recenti sono stati migliori rispetto all'australiano quindi potrebbe avere un rapporto di forza maggiore neozelandese australiano e tornare quindi questa candela verde giusto una parentesi di un trend ribassista e poi riprendere il discorso giù e testare il supporto successivo più in basso vedremo può anche essere che da qui adesso rialza sono tutte considerazioni da fare insomma nel momento in cui si decide di prendere posizioni o meno altra situazione eur audi i famosi 1000 pips di cui parlavo ieri questa era il rimbalzo da supporto in area 1.45 si è formata la candela rossa su 1.5561 un livello che negli ultimi mesi non mi fa impazzire negli ultimi mesi non è un livello eccezionale vedete il mercato l'ha superato più volte è stato quasi indifferente non l'ha visto 1.5561 anche qui qualcosina qui però se estendo indietro nel tempo qua è fantastico qui c'è una situazione che attira decisamente la mia attenzione vado a scorrere ancora più indietro per avere dei confermi anche qui guardate qui che fantastico supporto guardate che mega supporto 1.5561 quindi riepilogando vedendo andando un po più indietro parecchio indietro negli anni è decisamente un livello molto interessante 1.5561 però qui negli ultimi mesi praticamente da agosto 2015 in poi non è che sia stato eccezionale così come abbiamo visto negli ultimi anni quindi si può fare si può fare con un quantitativo ridotto perché comunque il forex permette l'uso di quantitativi ridotti e entrare in maniera in maniera progressiva quindi non subito a pieno regime con tutto il capitale quello che si vuole investire su questa operazione un po' alla volta anche questi saranno temi affrontati durante il corso di gruppo che parte lunedì prossimo insomma valutate se poi siete già ribasso euro dollaro rialzo australiano contro dollaro decisamente un doppione potete evitare di fare questa operazione dopodiché mi sembra di aver concluso vediamo l'altra dollaro fantastico il dollaro usd cad qui il cad con petrolio che sta registrando noi massimi del 2016 usd cad dovrebbe venire giù siamo su una resistenza c'è anche la candela rossa ma niente non ne vuole sapere è aggrappato lì a 1 29 e 60 area 1 29 e 60 non cede oggi sta lì potrebbe esserci la violazione in questo momento perché a parte fatto bisogna vedere i dati macro cad che sono usciti e ci saranno venerdì ce ne sono interessanti e poi c'è la forza del dollaro che in questo momento sta predominando rispetto alla correlazione inversa rispetto al petrolio che quindi questo effettivamente dovrebbe venire giù però hanno saltato per esempio se qui volete proteggere in qualche modo questa operazione e quindi essere a rialzo in modo tale se siete a ribasso proteggere questa operazione c'è la verde saltata per sbagliare qui è importante c'è la verde su outcad che vi permette di essere a rialzo sull'australiano che abbiamo visto la candela verde si è manifestata su più valute su più incroci e anche il cad se usd cad siete a ribasso vuol dire che vi aspettate un apprezzamento del cad perché usd cad se siete a ribasso vi aspettate che il dollaro venga giù a favore del dollaro canadese cad qui vi andate già in parte a proteggere l'operazione quindi se usd cad dovesse strappare a rialzo ci sono buone possibilità perché poi bisogna sempre vedere anche l'australiano cosa fa che comincia a salire questo dal supporto 0.93.97 insomma davvero forex offre tante tante opportunità è un mercato fantastico il più liquido al mondo e bisogna insomma vedere ci sarà anche un nuovo servizio oltre il corso di gruppo che seguirà da vicino questo tipo di strategie insomma tanta roba per il momento io mi fermo qui vi ringrazio per la cortesa attenzione ed auguro a tutti voi una buona giornata a Grazie.